Eccoci qui con Luca Sasanelli, gli facciamo in tanti complimenti perché hai trovato il primo gol con la maglia del Pescara, primo gol tra i professionisti. Le emozioni? Sono contentissimo anche perché ho passato un momento di difficoltà e sono davvero contento e dedico questo gol a tutta la mia famiglia, a chi mi è stato vicino, a scietà, al presidente, a tutti coloro che davvero mi hanno sostenuto in questo momento. Raccontacelo al cross di Cangiano, ti sei trovato il pallone e poi? Poi l'ho schiacciato in porta con tutta la rabbia che avevo, proprio perché ne avevo bisogno di ritrovare il gol. Luca, schierato da terzo nel tridente offensivo, quindi da esterno offensivo, Cascione ti conosce bene perché ti ha allenato con la maglia del Sassuolo e hai dimostrato che puoi fare tutti i ruoli lì davanti? Io, come avevo detto anticipatamente la scorsa volta, mi metto a disposizione della squadra, del mister e anche cinque minuti si dà sempre il massimo per aiutare la squadra e per portare a casa il risultato.